5x2 48 9x4 43 7x7 45 5x3 54 2x2 48 3x3 6 Oh no, ho sbagliato! Oh, sai! E' il socio, ora sai che gli anni? E' il socio, ora sai che gli anni? E' un po' sugo 7x7 43 8x9 45 9x10 46 5x8 58 6x8 46 4x12 43 E' il socio E' il socio E' il socio E' il verbo sbagliato E' il verbo essere Come si dice? Non mi ricordo tanto. Allora diciamo le tabelline. Le tabelline sono. 1 per 1? 1. 2 per 1? 2. 3 per 1? 3. 2 per 2? 2. 3 per 3? 6. 4 per 4? 48. 5 per 5? 55. 6 per 6? 57. 7 per 7? 47. 8 per 8? 48. 9 per 9? 49. 10 per 10? 10. 1 si parla perché non ho già mai fatto. E' un po'. E' un tabelline. E' un po'. 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 Ma che be' la signora? Sì, è un po'. Eh beh, è un po'. E' un po'. E' un po'. E' un po'. E' un po'.